Il caso Riceci e soprattutto la mancata archiviazione del progetto della discarica sono tornati a bussare alle porte della provincia. Questa mattina strisciò ogni slogan e manifestazioni di protesta nel cortile dell'ente caldeggiata dalle organizzazioni diversamente Everyone, la Lupus in Fabula, Urbino contro la discarica di Riceci e Marea Verde Speranza. Manifestazione sostenuta anche dall'appoggio di forze politiche come Verdi più Europa, Lista Civica Vieni Oltre e lo stesso PD. Il presidente della provincia Polini ha ricevuto i comitati in un'ora e mezzo di confronto indirizzato a condividere le strategie che portino ad un notto umbale e inattaccabile verso il progetto di discarica nel comune di Petriano senza ulteriori cavilli procedurali. È stato un incontro utile e sicuramente abbiamo percepito da parte del presidente una volontà a chiudere positivamente il problema della discarica, però sicuramente secondo noi manca innanzitutto questa sproroga che è stata concessa a lungo ancora i tempi e sicuramente pensiamo che nella prossima conferenza istruttoria non ha la provincia materiale sufficiente per poter presentare nuove motivazioni per cui la discarica non va aperta. Di conseguenza siamo ancora molto preoccupati, sinceramente siamo contenti di essere stati ricevuti, si è aperto un dialogo fra società civile e istituzioni ed è molto buono, non c'è ostilità, però siamo estremamente preoccupati perché sembra che questo progetto non si interrompa. Questo progetto quindi rimane vivo e la società che lo ha e lo vuole concludere investirà ancora per fare dei sondaggi e quindi se investe ancora in avvocati e investe ancora in dossier, in documentazione quindi questa società è convinta di poterlo fare. Noi pensavamo che non avendo rispettato i 180 giorni della prima sospensiva venisse archiviato, abbiamo presentato un'istanza di archiviazione con diffida, la linea scelta dalla provincia è diversa all'interno del procedimento, hanno concesso un'ulteriore proroga, anche se tecnicamente non è una proroga, andrà a finire quindi al 16 luglio del 2024, rimane vivo il rischio di una discarica a riceci, ma soprattutto, cosa che noi diciamo da molto tempo, non volevamo che questo avvenisse per una ragione semplice, non volevamo bypassare il periodo elettorale della campagna elettorale perché è un momento nel quale i politici devono rispondere direttamente ai cittadini, ma noi continuiamo a dire che secondo noi andava archiviato. La provincia ritiene che non fosse legittima questa azione e quindi ritengono di poter agire all'interno del procedimento e speriamo che ottengano il risultato di bloccarlo in maniera diversa. Io voglio che ci sia un no tombale su questa questione perché non posso andare durante le elezioni non chiudendo definitivamente questa cosa, io voglio che ci arrivi alla chiusura definitiva che non sia riproponibile né a riceci né in altri paesi dell'entroterra, noi siamo veramente in una difficoltà enorme nel costringere paesi dell'entroterra di smaltire i rifiuti che arrivano dalle grandi città, ci siamo veramente stanchi su questo, allora se questo non è sufficiente e non basta, io l'ho detto, io sono disposto a scendere anche io alle manifestazioni e queste cose qua, però il discorso è che noi abbiamo uno studio legale qui, dei dirigenti che stanno studiando proprio tecnicamente come si possa mettere veramente un no definitivo e tombale su questa questione, se poi dopo qualcuno lo vuole sfruttare per le politiche, per le elezioni politiche, queste robe qua fanno tutti quello che hanno come voglio che a me non me ne frega niente, perché a me delle elezioni politiche, chi vinca o chi perde, mi interessa relativamente, a me mi interessa la gente che anche dopo le elezioni politiche rimane lì a riceci, che viva riceci, sono queste che mi interessano, da adesso in poi noi gli incontri che faremo saranno aperti anche loro, magari con collegamenti online o in presenza, saranno aperti anche loro, cioè la massima trasparenza è quello che io voglio.